Facile da usare, trasparente, immediato, è il nuovo portale online della provincia di Roma, nato per rendere l'attività dell'amministrazione chiara e vicina ai suoi cittadini. Videonotizie, immagini, testi, nel massimo della semplicità e della sintesi, con l'opportunità per ogni comune della provincia di partecipare attivamente grazie all'utilizzo dell'open source. Mi fa molto piacere dire che è un'iniziativa totalmente al servizio del territorio, sia per quanto riguarda il portale, perché avendo utilizzato l'open source offriamo un servizio a basso costo ai comuni che vogliono aprire o ripare i siti risparmiando soldi, sia per quanto riguarda province che è una newsletter che è al servizio dell'offerta turistica o della produzione culturale dei comuni. Abbattimento dei costi, linguaggio semplice e servizio ai cittadini, che sul portale troveranno anche i testi integrali delle delibere, oltre alla newsletter multimediale Province, che ogni settimana racconterà le attività dell'amministrazione provinciale.